Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme il regalo su Tokalife World Ok, vediamo un po' che cosa ci hanno messo oggi come sorpresa gratuita Allora, cerchiamo la posta Dove sei? Posta, posta, posta Non la trovo mai al primo colpo, ecco, devo sempre fare il giro del mondo Come avete notato, Daniel mi ha insegnato come collegare il telefono al computer e quindi mi posso vedere in webcam e questo video lo sto facendo in realtà come prova per vedere se funziona Ok, prendo comunque il mio personaggio perché mi piace vedermi Ah, ma ero ancora vestita da squalo Va bene, magari togliamo almeno questo costume Sono ancora una sirenetta Apriamo e vediamo, vediamo di che colore sarà normale Perciò dovrebbe essere qualcosa di non troppo particolare Oh... Bello invece! È un megacono! Ma è una lampada! Mi piace un sacco! Dai, io l'avrei messa in un pacco dorato Comunque veramente carina Quindi è possibile che uscirà una gelateria come prossimo scenario? Vabbè, io lo sto dicendo così con tono misterioso Magari voi già sapete che effettivamente è quello che hanno annunciato Andiamo a vedere nell'home page se c'è qualche annuncio Perché io non ci ho neanche fatto caso Però in questo caso secondo me non hanno ancora detto nulla Insomma, non si sa se ci sarà una gelateria Però secondo me potrebbe esserci una gelateria Aspettiamo il prossimo aggiornamento e vediamo se abbiamo avuto ragione Comunque ragazzi, io non so se ci sarà effettivamente una gelateria come nuovo scenario Però nel frattempo io mi cambierei vestendomi un po' più a tema Ragioniamo che cosa potrebbe significare il regalo del gelato Magari non sarà uno scenario giocabile normale Ma magari una nuova casa Una casa con tutto arredamento ispirato ai dolci Sapete che forse è più probabile quello Perché effettivamente di gelaterie ce ne sono veramente tante Sparse in Tokaword Quindi, non so, una location interamente dedicata al gelato Forse sarebbe superflua Invece una casa tutta a tema dolci Magari tipo la casetta di marzapane di Ansel e Gretel Potrebbe essere più originale Che ne dite? Vestita così? Sono abbastanza a tema? Intanto io andrei proprio a far prendere un bel gelato alla mia personaggia Beh, ad esempio anche qui al Club dell'Anguria C'era una gelateria se non ricordo male Infatti, eccola qui, la gelateria di Fragolona Comunque, in attesa di scoprire il significato di questo regalo gelatoso Io me ne ordino uno qui Vediamo un po' che gusti ci metto Cioccolato, andiamo sul sicuro E secondo voi ragazzi, che cosa uscirà come prossimo scenario? Scrivetelo nei commenti e poi vediamo un po' chi avrà indovinato Per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo video